Eccoci qua zia. Prima di cominciare quella roba lì ti dico subito io. Prima di non gli uuderti. Quelle roba sono roba che solo per chi ha tanta... Tanta cosa? Tanta paglia di poter comprare. Sì, ma non sappiamo neanche di cosa parliamo zia. Perché loro fanno sempre un pezzo nuovo. Un pezzo oggi, un pezzo tra altri mesi, altri soldi. E a quanti soldi si va a finire? Non so io. Li mangio a nessuno che è l'anima quella gente lì. Bom, cominciamo... Sì, ma dobbiamo spiegare di cosa parliamo zia. La Nintendo ha finalmente annunciato il prezzo di lancio della Nintendo 3DS. Sì, è fatto per loro annunciare i prezzi di lancio. Mi sa che scopola che avranno quei prezzi. La Nintendo 3DS vedrà come prima territorio di commercializzazione il Giappone. Il Giappone è sempre potente nelle sue cose ma è tanto caro. In Giappone zia costerà 25.000 yen. Sì, sarebbero 30.000 euro. Ma no. 200.000 euro. Ma no. In dollari sono circa 299 dollari. E' perché il dollaro è la moneta che bisogna fare il cambio. Poi dallo yen al dollaro e dal dollaro in euro. Quindi zia, guardami a me però. La nostra paura è che quando arriverà in Europa, verso marzo, facendo il rapporto uno a uno col dollaro, costerà 300 euro. Ma trovi soldi chiedono. Non si può andare a fare quelle cose così. Si deve stare attenti. Anche loro sono poco più moderati nelle spese. Eh. E loro fanno ogni mese un pezzo nuovo. Dicono che è sempre che imita quello che hanno più vecchio. Eh. E così vanno avanti, vanno sempre avanti, vanno sui dollari, vanno sulle monete giapponesi come le chiamano loro. E non so nessuno che comprerà perché nessuno arriverà a comprare. Ma quindi secondo te come prezzo? Troppo alto. Perché pensa zia, la Nintendo DSI XL costa 179 euro. Ma costa troppo. Mi fanno costare troppo. Per quello che offre troppi soldi. Per quello che offre troppi soldi. Perché uno non ha sempre in mano tanti soldi. Sono rari quelli che hanno i soldi in mano, i tempi di adesso. Eh. E adesso facciano come che vogliono. Ma quindi quando uscirà noi la compriamo o no? Quando uscirà noi non lo compriamo mai. No. Perché non arriveremo mai a prenderlo. Quindi questa volta saltiamo niente del Nintendo 3DS a marzo. Sì, questa volta si salta perché ho salto, ho mangio sto osso, ho salto sto fosso, si salta sì. Quindi niente? Quindi niente. Ma secondo te tutto questo è 3D. E questa console avrà il 3D. Grazie agli schermi impara l'asse senza occhiali. Cosa ne pensi? Ma cosa fanno quelle robe? Dove che sono? Non serve a niente. non serve a niente proprio. Quindi niente giochi 3D, niente 3DS? Niente più? Niente, niente. Dici una cosa, devi dire quelle robe. Basta, basta. È meglio evitare che è in tempo. Eh. bene. Bene zia, abbiamo capito la tua opinione, quindi. Sì. Un saluto a tutti. Saluto a tutti e via. No, via. Cosa devi dire? Via col vento. Ecco. Alla prossima. Ciao. Ciao. Passa ai sacramenti. Ah no. Perché non me è la casa del sacramento? want to be .. Che ? Perché loro... espirono fuori i soldi così no? ..Espirono fuori i soldi. È un tocco nuovo, un tocco , un tocco… libero èointe confrutte dal contadono. Ma un tocco nuovo, è tonight che hai dovuto ballare abbastanza